Torniamo in Italia al Motor Show di Bologna dove la Simonini Moto di Maranello ha presentato una serie di fuoristrada che vanno da 50 ai 250 cm cubici nelle due versioni, regolarità e motocross. Giacomo Agostini in persona è venuto a congratularsi col cavaliere Fornetti, presidente della società che controlla la Simonini. L'occasione è ottima per assistere alla presentazione pratica dei vari modelli, la cui estrema maneggevolezza non ha bisogno di molte parole. E' vero che tra coloro che inforcano queste moto che vedete c'è Giuseppe Pazzioli, campione italiano della categoria Juniors classe 125 cm cubici, ma è anche più vero che queste macchine scattanti e docilissime le vedremo farsi presto valere sulle pitte di cross e nelle più importanti manifestazioni del settore fuoristrada.